Sono oltre 2.000 gli studenti che in Sardegna oggi hanno sostenuto il test nazionale per frequentare la facoltà di medicina. Sentiamo il servizio. Edi Graziano Pintus. In maggioranza neodiplomati, ma anche studenti che tentano l'ingresso alle facoltà di medicina per la quinta volta. A Cagliari 1.400 candidati che hanno sostenuto il test di accesso. A Sassari 800, in media 1 su 5 riuscirà ad iscriversi ai corsi a numero chiuso di medicina o odontoiatria. Mia figlia che studia in un'altra facoltà, che non è riuscita ad entrare altri anni, ha voluto ritentare quest'anno. Mia figlia deve dare l'esame medicina e odontoiatria e attendiamo. L'ottenta per la prima volta? No, questa è la terza. Tassa di iscrizione alla prova d'accesso salita quest'anno a 100 euro per decisione ministeriale e test organizzati in più edifici e più aule rispetto al passato per garantire il distanziamento fra i candidati. 15 positivi al Covid-19 hanno chiesto all'Università di Cagliari di sostenere l'esame di accesso in un'altra data. Un problema presentatosi in tutte le università, ma l'organizzazione di eventuali prove suppletive compete al ministero. A partire dall'8 settembre, nuova tornata di test per i corsi a numero chiuso delle professioni sanitarie. Infermieri, ostetriche, fisioterapisti e tecnici, circa 20 sbocchi professionali. e laurea in infermieristica che si conferma come più ambita in entrambe le università sarde.